Musica Domani è venerdì 26 ottobre, la chiesa fa memoria di Sant'Evaristo, le previsioni del tempo di Telenuova, benvenuti. Nebbie fitte al mattino in Valpadana, specie dalla Lombardia al Veneto, dall'Emilia Romagna alle coste delle Marche. Peggiora per l'arrivo di una perturbazione da ovest, quindi piogge al nord-ovest a partire dal Piemonte e dalla Liguria. Piogge su Toscana, Lazio, Campania, peggioramento in arrivo sulla Sardegna e a partire dal pomeriggio serata su tutto il resto del centro nord. Temporale in serata in particolare su Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Forte maltempo sulla Campania con scirocco sui mari. Nevica oltre i 2000 metri nella notte e dentro sabato piogge su tutte le altre regioni. Nel corso della giornata di domani sulla Campania, pressione atmosferica in diminuzione per l'avvicinarsi di una circolazione depressionaria proveniente, come detto da ovest, sarà l'inizio di una lunga fase, molto instabile e a tratti perturbata. Il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, ma nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare per l'arrivo di nubi estese tra il pomeriggio e la serata piogge. Le temperature saranno in calo, i venti deboli, il mare poco mosso con moto ondoso in aumento.